Sei appassionato di storie di mafia e vuoi scoprire i segreti più oscuri e le vicende meno conosciute? Abbonati al canale dal pulsante che trovi sotto al video oppure dal link che trovi in descrizione e accedi a video esclusivi dedicati ai misteri della mafia, alle inchieste più scottanti e ai racconti che non troverai da nessun'altra parte. Entra adesso nella nostra area riservata e scopri tutto ciò che la storia non ha mai rivelato. Matteo Messina Denaro è stato uno dei boss mafiosi più potenti e pericolosi di Cosa Nostra, latitante per quasi 30 anni fino al suo arresto nel mese di gennaio dell'anno 2023. Messina Denaro, conosciuto anche come Diabolic, ha ereditato il comando della mafia siciliana dopo gli arresti di figure storiche come Salvatore Riina e Bernardo Provenzano. La sua latitanza è stata supportata da una rete di complici e fedelissimi che gli hanno permesso di mantenere il controllo sugli affari mafiosi, fino a quando è stato catturato mentre si sottoponeva a cure per un tumore in una clinica di Palermo. È morto in carcere nel mese di settembre dello stesso anno, chiudendo così uno dei capitoli più lunghi e importanti nella storia della mafia italiana. Nonostante la sua cattura e morte, l'influenza di Messina Denaro resta ancora evidente. Alcuni dei suoi fedelissimi torneranno presto in libertà a seguito della scadenza dei termini di custodia cautelare, come deciso dalla Corte d'Appello di Palermo. La revisione delle condanne è avvenuta su indicazione della Corte di Cassazione, che ha eliminato l'aggravante del reimpiego economico dei proventi derivanti dall'attività mafiosa. Ciò ha portato a riduzioni delle pene e di conseguenza alla scarcerazione di alcuni degli uomini più vicini al boss. La Corte d'Appello ha rivisto le condanne inflitte a personaggi di spicco, come Nicola Accardo, boss di Partanna, detenuto al regime di carcere duro previsto dall'articolo 41 bis. Accardo, la cui pena è stata ridotta da 15 a 10 anni, è stato difeso dall'avvocato Gianni Caracci. Tra gli altri, anche Calogero Guarino ha beneficiato di una riduzione di pena, passando dagli 11 anni del primo grado agli 8 anni in appello, grazie alla difesa dell'avvocato Enrico Tignini. Giuseppe Tilotta, inizialmente condannato a 11 anni e 4 mesi, ha visto la sua pena ridursi a 8 anni. Un'altra figura importante, Vincenzo Lacascia, capo mafia del clan di Campobello di Mazzara, lo stesso paese dove Matteo Messina Denaro si nascondeva durante la sua latitanza, è passato da una condanna iniziale di 15 anni a 9 anni e 8 mesi. Anche Lacascia è detenuto in regime di carcere duro, come altri affiliati di rilievo. Raffaele Urso, un altro capo mafia di Campobello di Mazzara, ha ottenuto uno sconto significativo. La sua condanna è stata ridotta da 18 anni e 4 mesi a 11 anni e 2 mesi. Urso, insieme alla Cascia, è stato coinvolto in diverse attività mafiose che andavano dalle estorsioni al controllo delle scommesse online, un settore di grande interesse per le organizzazioni mafiose. Anche Andrea Valenti, parente del noto boss Bonafede, ha beneficiato di una riduzione di pena, passando da 8 anni a 7 anni e 6 mesi. Filippo Dell'Aquila, che in primo grado era stato condannato a 12 anni, ha ottenuto una riduzione a 8 anni e 8 mesi. Angelo Greco, difeso dall'avvocato Massimiliano Miceli, ha visto la sua pena ridursi da 8 a 6 anni, mentre Antonino Triolo, difeso dall'avvocato Gianni Caracci, ha ottenuto una condanna ridotta da 11 anni e 4 mesi a 8 anni. Il processo ha coinvolto anche altri imputati, come Bartolomeo Tilotta, accusato di favoreggiamento e condannato a un anno e 10 mesi, e Paolo Buongiorno, la cui pena è passata da 7 anni e 2 mesi a 6 anni. L'indagine che ha portato a queste condanne è stata condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e ha svelato l'ampia rete di fedelissimi legati a Matteo Messina Denaro. Uno degli aspetti più rilevanti dell'inchiesta riguarda Gaspare Como, cognato di Messina Denaro, che ha scelto di essere giudicato con il rito ordinario a differenza di altri imputati. Como avrebbe ricoperto per un certo periodo il ruolo di reggente del mandamento mafioso di Castelvetrano, gestendo gli affari della famiglia mafiosa durante la latitanza del cognato. Il suo ruolo è emerso anche grazie alle indagini sul settore delle scommesse online, un ambito nel quale i clan mafiosi avevano investito risorse significative, oltre alle estorsioni e ai danneggiamenti, attività classiche della mafia siciliana. Un altro imputato originario del processo era Rosario Allegra, marito di Giovanna Messina Denaro, sorella del boss latitante. Allegra è deceduto in carcere prima della conclusione del processo, privando così le autorità di una possibile fonte di informazioni utili sulle attività della famiglia Messina Denaro. Le riduzioni di pena e le conseguenti scarcerazioni rappresentano un punto delicato nella lotta alla mafia siciliana. Sebbene la revisione delle condanne sia stata imposta dalla Corte di Cassazione e segua le norme di legge, la scarcerazione di figure di spicco nella gerarchia mafiosa solleva preoccupazioni per la possibile ripresa delle loro attività criminali. Matteo Messina Denaro, arrestato nel mese di gennaio dell'anno 2023 dopo quasi trent'anni di latitanza, è stato sostenuto da una vasta rete di complici e collaboratori che ne hanno garantito la protezione e la gestione degli affari durante la sua lunga assenza. Campobello di Mazzara, il paese dove Messina Denaro si nascondeva, è un esempio emblematico del controllo capillare che il boss e i suoi fedelissimi esercitavano sulla zona. Vincenzo Lacascia e Raffaele Urso, entrambi capo mafia di questo territorio, erano responsabili di mantenere l'ordine all'interno della cosca, garantendo la continuità delle operazioni mafiose anche in assenza del loro leader. La capacità della mafia di rigenerarsi, nonostante l'arresto di capi di primo piano, è uno degli elementi che rende difficile la lotta contro queste organizzazioni. L'indagine della direzione distrettuale antimafia di Palermo ha messo in luce non solo i crimini commessi dai singoli imputati, ma anche la complessità delle attività economiche della mafia siciliana. Il settore delle scommesse online, in particolare, rappresenta una nuova fonte di guadagni per i clan, che negli ultimi anni hanno investito risorse in questo ambito, sfruttando le lacune normative e la difficoltà di controllare efficacemente un settore in forte espansione. Nonostante l'arresto di Matteo Messina Denaro abbia rappresentato un successo significativo per le forze dell'ordine, la rete di complicità che il BOS ha creato in decenni di attività criminale continua a rappresentare una minaccia. I recenti sconti di pena e le scarcerazioni impongono alle autorità una vigilanza costante per prevenire che questi individui tornino a ricoprire ruoli di rilievo all'interno dell'organizzazione mafiosa. La morte di Rosario Allegra, un altro esponente della famiglia Messina Denaro, ha privato le autorità di una possibile fonte di informazioni sulla latitanza e sulle attività del cognato Matteo. Tuttavia, le indagini continuano e la lotta contro la mafia siciliana richiede un impegno costante e coordinato tra le forze dell'ordine, la magistratura e la società civile. Le scarcerazioni di queste figure legate a Messina Denaro sono un segnale delle difficoltà che si incontrano nella battaglia contro la mafia. Sebbene i processi e le condanne rappresentino un passo importante, la capacità della mafia di rigenerarsi e di mantenere il controllo su territori e attività economiche è una sfida che richiede un approccio sistematico e una strategia a lungo termine. La lotta contro la criminalità organizzata non può fermarsi alle aule di tribunale, ma deve coinvolgere tutti gli ambiti della società per contrastare l'influenza pervasiva che la mafia esercita sul tessuto economico e sociale del paese.